Siamo andati al cinema. Loro sono tornati verso le otto. È andato in discoteca. Hanno fatto la spesa. Hanno parlato di lavoro. Hanno bevuto molto. Avete capito il testo. Siamo entrati in un negozio. Siete saliti al sesto piano. Abbiamo venduto la casa. Ho sentito tutto. Il telefono ha suonato. Luigi ha portato Luca. Hanno cambiato casa. Siamo usciti di casa. Avete perso molti documenti. Ogni libro deve stare in ordine. Devo risolvere alcuni problemi. Devo risolvere alcuni problemi. Oggi non ho visto nessuno. a scuola, tutti vanno d'accordo. A scuola, tutti vanno d'accordo. Abbiamo visto molti sbagli. I dipinti qui sono di tante epoche. Abbiamo troppe piante in casa. Ho sentito cosa dicono gli altri. Basta poco per pulire la casa. Fino a stasera ho molto da fare. Non ho trovato nessun traffico. Ci siamo visti alcuni mesi fa. Non ho capito che stai facendo. Mi chiedo chi sia quell'uomo. Ho scoperto chi ti ha rubato i soldi. Il vestito che hai comprato è costoso. Parlo con chi vuole ascoltarmi. Dimenticavo che sei allergico. Hai detto quello che tutti pensano. Mi passi il piatto che sta sul tavolo? La pizza che ho mangiato era buona. Non ricordo chi ha telefonato ieri. Chi lavora tanto viene premiato. I regali che mi hai fatto sono belli. Il film che ho visto era interessante. Paolo mi ha detto che ti saluta. Lui è mio cugino che vive a Roma. Chi viene al mare con me? Questa è un'auto che va veloce. Le persone che ridono sono felici. Chi ride è una persona felice. Il blu è il colore che preferisco. Chi lavora la notte guadagna di più. Stiamo andando tutti da Paolo. Questo vestito è di due anni fa. Luca vuole qualcosa da bere. Hai una casa piena di quadri. Siamo usciti da quel negozio. Domani non ho nulla da fare. La porta è di nuovo chiusa. Ti ho visto da qualche parte. L'auto di tua nonna è verde. C'è una lettera per te da Parigi. Claudia ha finito di studiare. Il vaso è caduto dal balcone. Luca è stato al cinema da solo. Oggi partite col volo del luna. La polterona è comoda. Le polterone sono comode. Il letto è bello e grande. Il letto è bello e grande. I letti sono belli e grandi. La camera è piccola. Le camere sono piccole. Il libro è lungo, ma interessante. I libri sono lunghi, ma interessanti. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Che bella casa. Che belle case. Tutta la notte. Tutte le notti. Tutte le notti. Il cavallo nero. I cavalli neri. La cravatta nera. Le cravatte nere. La cravatta verde. Le cravatte verdi. L'altra volta. Le altre volte. Questo signore. Questi signori. Questa signorina. Queste signorine. Un reparto. Dei reparti. Un sapone. Dei saponi. Dei saponi. Un euro. Degli euro. Il cieco. Il cieco. I ciechi. Lo specchio. Gli specchi. La vacanza. Le vacanze. Il dottore. Il dottore. I dottori. Coincidere. Coinciso. Condividere. Condiviso. Dividere. Diviso. Esplodere. Esploso. Evadere. Evadere. Implodere. Imploso. Perdere. Perso. Arrendersi. Arreso. Ascendere. Asceso. Dipendere. Dipeso. Discendere. Disceso. Offendere. Offeso. Pretendere. Preteso. Accendere. Acceso. Scendere. Sceso. Spendere. Speso. Tendere. Teso. Chiedere. Chiesto. Persuadere. Persuaso. Chiudere. Chiuso. Rinchiudere. Rinchiudere. Rinchiuso. Crescere. Cresciuto. Conoscere. Conosciuto. Concedere. Concesso. Succedere. Succedere. Successo. Mettere. Messo. Permettere. Permesso. Premettere. Premesso. Accogliere. Accogliere. Accolto. Accogliere. Accolto. Raccolto. Sciogliere. Sciolto. Accolto. Dire. Detto. Disdire. Disdetto. Maledire. Maledetto. Predire. Predetto. Vincere. Vincere. Vivere. Vissuto. Nascondere. Nascosto. Sconfiggere. Sconfitto. Leggere. Letto. Spegnere. Spento. Soddisfare. Soddisfatto. I giornali. Lo studente. Il libro. Il giornalista. Lo xilofono. Gli olandesi. Le camice. Gli uomini. Le barche. I fiori. Gli scherzi. Gli scherzi. Le amiche. Gli alberghi. Le cassette. Il nome. Il re. Il tema. L'amico. Lo sconto. Il tema. L'amico. Gli uomini. I cantanti. I laghi. L'uovo. Gli inglesi. Gli inglesi. I coltelli. Il cesto. Gli anni. Gli anni. Lo sbaglio. Il gatto è salito sopra il letto. Andiamo fuori a camminare. La sedia è accanto al tavolo. Ho guidato in mezzo al bosco. Di fronte al bar c'è il cinema. Spostate l'auto più avanti. Il tuo amico è ancora laggiù. Qui vicino c'è un buon locale. Tuo nipote è dietro l'albero. Lassù ci sono le montagne. Sotto il letto c'è la polvere. Dovete andare via presto. I vestiti sono dentro il mobile. Ho guidato intorno alla città. Il mare è lontano da casa. Ti aspetto fuori dal negozio. È meglio andare altrove. Sedetevi accanto al camino. Non c'è da nessuna parte. Ho controllato ovunque. Mi piace molto stare quassù. Luca ha bisogno di un po' di vacanze. Per guadagnare bisogna lavorare. Ditemi di che cosa avete bisogno. Bisogna partire prima delle nove. La nonna ha bisogno di aiuto oggi. Luigi è nei guai. Bisogna aiutarlo. Per fare l'esame bisogna che studi. Chi si allena ha bisogno di acqua. Per partire bisogna fare le valigie. Claudio ha bisogno di andarsene. Bisogna che ti svegli più presto. Abbiamo bisogno della tua auto. Non c'è bisogno di mangiare tanto. Hai bisogno di fare una pausa. Di che cosa hai bisogno? Bisogna aspettare in silenzio. Per leggere bisogna avere un libro. Bisogna che qualcuno ti spieghi. Hai bisogno di uscire di più. Bisogna che lui si svegli presto. Luca ha bisogno di 200 euro. Quando vieni a casa mia? Ci vengo sabato sera dopo cena, se ci sei. Hai comprato le cartoline da spedire ai nostri amici? Purtroppo ce n'era solo una. Ne compreremo altre tre dal tabaccaio. Hai spedito gli inviti per la festa? Sì, ne ho già spediti più di 20. Hai sentito quello che ha detto Claudia? No, qui c'è tanto rumore. Ripetilo tu. Quando vi siete conosciuti, tu e Giorgio? Ci siamo visti oggi per la prima volta. Laura, ma non dovevate andare all'estero quest'estate? Dovevamo farlo, ma poi non ci siamo riusciti. Luca, fino a quando sei rimasto alla festa? Me ne sono andato poco dopo le 10. Siete già andati al cinema? No, non ci siamo ancora andati. Sai se Marco ha comprato i biglietti per l'aereo? No, non ne ha avuto il tempo. Ci penserò io più tardi. Avete trovato tutte le copie dei libri? No, ne abbiamo comprate solo 8. Vi hanno già raccontato come sono andate le cose? Sì, ci hanno accennato qualcosa, ma ne dobbiamo ancora parlare più tardi. Quanti chili di mele avete colto? Ne abbiamo colti 5 chili. C'è la classe? No, non èively. C'è la classe? C'è la classe? Grazie a tutti.